Un passo avanti ma soprattutto due passi indietro. Luciano D'Alfonso è costretto a fare indietro tutta sulla sanità e fa un passo avanti, come detto, nei confronti delle richieste delle opposizioni, ma soprattutto due passi indietro sulla sua voglia di fare il caterpillar, di andare avanti sulla sanità, secondo quanto stabilito e succeda poi quello che succeda. Ecco, alla fine è successo che si è ritrovato circa 300 persone fuori dall'emiciclo, accompagnate anche da sindaci e amministratori locali che protestavano, urlavano, lanciavano petardi e chiedevano una sanità a portata di mano. Non solo punti nascita da salvare, dunque, ma anche reparti più complessi come ortopedia e chirurgia dell'ospedale di Atessa. Il Noi tireremo sempre dritto di D'Alfonso ha ricordato un po' quello del ventegno, che a via di tirare dritto a un certo punto si è fermato. La volontà del popolo va rispettata, sempre, così come è giusto che si rispetti il risultato elettorale, che di volontà popolare pur si tratta, ma anche quando i cittadini fanno sentire la loro voce, magari ricordando promesse fatte e non mantenute. È giusto ricordare che il governo regionale di centrodestra, guidato da Gianni Chiodi, ripeteva che non si poteva avere un ospedale sotto casa, ma è giusto anche ricordare cosa diceva il Partito Democratico allora. Le battaglie di tanti politici, amministratori e governanti che rivendicavano il diritto alla salute. Questo i cittadini hanno ricordato ieri ad Alfonso, Paolucci e compagnia cantando. L'importante, alla fine, è che il messaggio sia stato recepito. Cosa poi accadrà e quali saranno le mosse della giunta ad Alfonso, lo scopriremo solo vivendo, magari con qualche reparto spedaliero in meno. Cosa poi accadrà e quali saranno le mosse della giunta ad Alfonso,